No, io mi chiedo, devo veramente farlo, ho appena finito di editarlo, a vostra discrezione, andate avanti sapendo che potreste diventare delle persone diverse, potreste diventare delle persone migliori, o potreste non tornare indietro. Io l'ho aperto e ho detto, che è sta roba, adesso lo chiamo, ho detto, oh sì, ti si, apre un gioco, no adesso lo chiamo. Telefon, servizio di segreteria telefonica. Utilissimo, oh boy, era mut... Cioè io mi trovo davanti sto coso, cos'è? Cioè ragazzi cos'è sta cosa? Cioè è uno store, è un... Non lo so cos'è! One eternity later... Vodafone. No, non Vodafone! Ok funziona... Ma non ho capito perché è in mono sta cos... Mi spieghi che gioco così lo mette in mono! Perché? Perché lo mette in mono? Sì, ok, spara, spara quello che vuoi! Oh funziona, funziona, funziona! Sì! Andiamo... Andiamo su di... Discord è ma... Zitta, mi stai spottando l'orecchio! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Ma cosa urli? Ma cosa urli? Ti so cos'è? Cos'è sta roba? No, non cosa ridi? Ma cosa ridi? Aspetta un attimo... Aspetta un attimo... Sta buono! Sta... Fermo un attimo che riapro Discord! E' tanto mi calmo! Cioè, trovalo! Discord devi scrivere! Non devi scrivere Discord! L'hai cercato 300 volte! Bravo! Bravo! Complimenti! Bravo! Se vuoi... Senti! Oh, ricamare! Non mi clippare così l'audio! Sì! Non ridere! Sì, non serve che urli, eh! Opa, prova a parlare un attimo, Franz! E' sei dato via! Dove sei da? Sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Pronto! 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 Aspetta! Aspetta! Sì! Prova a parlare! Non è possibile che non ti senti! Prova! Parli! Smutati da Discord, Emma! Bravo! Ma come smutite da Discord? Smutati da Discord! Ah! Ah! Puttana, Emma! Scusi, ma! Scusi, ma! Che deficiente! Ma te l'ho detto 44 volte! Sta zitto! Ma io sono deficiente! Ma dimmi che sono deficiente! Ma dimmi che sono deficiente! Senza dirmi che sono deficiente! Paco, te mi senti? Qualcuno, qualcuno qua dentro in sta stanza, mi sente? Pronti! Pismore! Vai su deploy! Deploy! Vai su deploy! Minchiai deploy! Cos'è? Cos'è deploy? E' scritto in caratteri cubitali a destra! Ma dove? Ah! Sul gioco! Ah no, scusa, se io sono ancora rimasto a di... Io sono ancora rimasto su Discord! Aspetta! Il mio cervello elabora poche informazioni alla volta, hai capito? Non ci arrivo! E' finita la partita! Cos'è finita la partita? Ma non ho neanche giocato! Ma come può finire la partita se non ho neanche giocato? Cosa devo fare? No, non sto capendo! No, non sto capendo! Cosa devo fare? Scegli una! Ma come scegli una? Scegli una! Clicca! Clicca il tasto sinistro! Clicca! 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 Ok, ho cliccato! Basta! Minchia sono dove... Allora, tu vai su deploy! E sono andato su deploy! Alleluia! Sì, come minchia funziona! Spera! Sì, come sempre! Vai, vai! Vai avanti! Veloce! Corri! Si può correre su sto gioco! Puoi mirare con tasto destro e puoi sparare con tasto sinistro! Come? Come si vede? Muori! Muori! No, dove minchia? Cos'è? Aspetta! Te sei... No! E dove minchia sono gli avversari? Non sto capendo! Devi sparare i rossi! E dove sono i rossi? A me piacciono i rossi! Perché devo ammazzare i rossi? Sì, Nati! No, te sei... Era rosso o blu? No, no, no! Cos'è? Cos'è sta cosa? No! Via! Via! Sparisco! Cosa? Che cos'è? Cos'è successo? Eh, ciao! Sei già morto! Ma io mi sono spostato a destra! Perché non si è spostato a destra? Aspetta! Forse non è il gioco più indicato a me che non ci vede una cioola, ma... Proprio per questo ci giocherò! Nemmeno io? Beh! Ma fa finta di aver capito! Ormai io ci sono abituato! So 15 anni che faccio finta di aver capito! Va va, ti corri! Dove... Dove sono? Dove sono? Dove sono? Sparo anch'io là! Sparo anch'io là! Non so dove sono, ma sparo anch'io là! Vai! Spara, spara, spara! Vai! No! 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 Non puoi volare! Cosa fai? Non puoi... Non sai volare! Come minchia faccio a salire su? Sei morto! No! 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 Grazie a tutti